Because I got to dance Greta, non so se ti sei accorta che siamo senza speranze A meno che non distraiamo Greta con qualcosa Deffetto, capisci? Sì, certo, qualcosa che attragga la sua attenzione Disastro, cataclisma, tragedia, rovina Mamma, sapevo sarebbe successo Che succede, non stai bene? No! Corra a chiamare un medico Non ti permettere di aprire quella porta Posso vedere cosa è tra me? Si vede anche così? Cosa? No, non fare finta di niente Lo so che sono sfigurata Cosa devo guardare? C'è ancora una faccia intorno a questo coso? Io non vedo niente Ti riferisci a quel micropontino lì? La mia valutazione è compromessa La mia carriera è fiolita Ma se neanche si vede Spettaci! Andate via! Dove andate? Fate qualcosa Devo essere perfetto Dai Bart, sono nei guai seri Perché dovrei aiutarti? Non dirmi che sei arrabbiato con me Perché non ti ho detto nulla su mio padre Ti ho detto tutto quello che so Ti assicuro Ti prego Vuoi che te lo chieda in ginocchio? Sì Era un modo di dire? Ok Un po' più giù Va bene Andiamo in aula Ok Via libera Allora Qui dice Che lo devi tenere su Due minuti e 43 secondi esatti Via 43 secondi? Esatti Non un secondo di più Né uno di meno Allora Come è Gros? Partiamo da un soutenue Ti ricordi qual è, vero? Certo È un passo portato Si può eseguire in tutte le direzioni Sia in the dunk e in the or È molto importante lo spot della testa Sì Ok Il problema è che devi ballare davanti a Gros Non ripetere a memoria la teoria Lo so Avanti Parti prima da un demi plié Stringi bene la quinta Passi per la prima E di nuovo in quinta Morbita con le braccia Ho capito Rifallo Edemi Quinta Prima E di nuovo quinta Meglio Meglio Anche se questo è solo l'inizio della coreografia Lo sai? Se hai fretta puoi anche andare Ah sì? E tu che fai? Rimango qui a provare da sola Ah beh Figuriamoci poi che esce fuori È dall'inizio dell'anno che prova a ballare classico Dai Si vede Si vede Per te è sempre così O tutto subito oppure molli E che c'entro io? C'entri Tutte quelle storie su non voglio fare lo schiavo di tuo padre Non è così che si conquista quello che sogni Bisogna faticare Allenarsi Bene 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 Datti da fare da sola allora Buon allenamento Sognatrice Non dirmi che non sono ancora passati due minuti Ehi 43 secondi esatti Ricordi Uh è vero Era rotto Quello diceva di anche un secondo in più Io ti Dimmi che non sono di più In un certo senso Che errore Stai tranquilla Ho già amminto la soluzione E cioè? Un intrullo prodigioso Wow Bene? Tutto bene? Hai finito? La sognatrice ha bisogno di spazio Tieni Che dovrei farci? L'ho fatto per te Per il tuo allenamento Metti questa musica E lasciati andare Grazie ma ho cose più importanti da fare Domani ho un esame che non supererò mai Ma perché ti preoccupi troppo di ripetere i passi di Gros? E di ballare come Allegra dovrebbe ballare? Il tuo punto forte È un altro Sì È quale? Quando ci metti del tuo Quando ti lasci andare sei imbattibile Sofia Tu hai talento Ma ti preoccupi troppo di imitare gli altri Cerca di essere Te stessa È la tua carta vincente Ma ti preoccupi troppo di ripetere i passi 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 di ripetere i Cerca di essere te stessa, è la tua carta vincente. Gro con questo penserà a tutt'altro. Ma lo sai cosa ci succede se per caso Gro ci guarda i piedi mentre balliamo? Crack! Io ti... Io ti... Figurati, è stato un piacere. Di solito non fa questo effetto l'intuglio? Dimmi cos'era quell'intuglio. Forse è meglio di me. Io ti rovino! Ti rovino! Io ti rovino! Io la rimetterei. Il mondo aspettava me da millenni. È proprio oggi che c'è Gro. È finita. Forse non è ancora finita. Questa volta ho io un'idea. Dimmela immediatamente Giuseppe. Dov'è? Chi? Giuseppe? Ehi... Ehi, perché quella faccia? È un po' di tensione per l'esame. Oh, smettila di fare la parte. È un tuo amico. Non succede niente se ammetti di essere avvantaggiata. perché avete quei... Allora che ne dite? Vi stolgo no l'attenzione del maestro francese. È in grande stile. Wow! Siamo avanti e siamo prodigiosi. Anche quella è per sviare l'attenzione. Se hai qualche speranza di battermi è solo perché sei chi sei. E io oggi non sono in forno. Ragazzi, il grande Marcel è arrivato. È dal presidente. Adesso vado e lo chiamo. Ottima idea. Bravi. Dai costumi. Ho chiamato quelli del secondo anno così li fanno da pubblico. E ricordatevi. Cosa? Ah, sì. Imitate i grandi. Mi raccomando. E dove è la mia coca? Affascinante. Miravigliosa. Maschera teatrale. Complimenti. Grazie. Vive la Francia. La mia gragra. Gragra. È così che la chiamavo. E come sta Jennifer? Bene. E quanti anni hai ora? È che faccio molta confusione con l'età. Almeno 43. E con chi vive? Da sola. In una villa a Beverly Hills. Sì. Come voi trattate cani a Hollywood non li tratta nessuno. Sono sicuro che guardandoti ballare sarà come guardarmi allo specchio. Ma se ti va. Respira. Te la sei cavata bene. Per ora. Volevo dirvi che il voto del maestro Gros inciderà sulla valutazione di questo mese. Cominciamo la prova. Prima di esibirsi è... Greta Gironi. Complimenti per la capigliatura. Un'hommaggio alla Francia. Si vede che il ballo non è il tuo forte, ma l'originalità del tuo costume fa intuire che aspiri a ben altro. Infatti, un giorno diventerò un grande stilista. Questa determinazione merita un premio. Grazie. E ora il prossimo esibirsi è Bartolomeo Carolis. E come dicevo sempre ai miei alunni per incoraggiarli... Te lo ricordi vero quello che dicevo? E come dimenticarlo? E cioè? Tocca a te! No, dicevo Ale! C'è qualcosa di strano in te. Stai allargendo lei che non sei ancora ripresa bene. Allegra dei magistris? Impossibile. Tu non sei l'allegra che conosco. Posso iniziare? Grazie. Ciao!